Buonasera e grazie di essere con noi. Grazie a questo avvicinamento alla stagione che nell'inverno 2012 prelude all'appuntamento estivo del Festival del Contemporaneo. Il tema che questa sera vi ha scomodato in un pomeriggio settimanale è un tema cruciale, molto presente e trasversale a tutti gli appuntamenti di Bob Sofia. Dalle fiction che abbiamo indagato al fashion che abbiamo proposto, il filo conduttore con cui tiravamo alcune questioni, le legavamo l'una con l'altra, era il tema della bellezza. Un tema che riteniamo cruciale, che riteniamo, se vogliamo, strategico anche sul piano filosofico. Sul piano filosofico noi siamo riusciti a scomodare questa sera una personalità assoluta della nostra narrazione, del nostro discorso. Si tratta, se vogliamo uscire per imagines, si tratta di un personaggio. Al prossimo episodio 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 Il tema Al prossimo episodio 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 Grazie Al prossimo episodio 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 che è sempre una sfida sul presente. Ecco, io credo che questa sfida venga lanciata tutte le volte in cui un poeta, un musicista, un artista visivo, ecco, tenta questa risembolizzazione dell'immagine e della comunicazione. E ce ne sono, ce ne sono. È molto più semplice trovarli nel mondo della poesia, perché la poesia non ha mercato, perché la poesia si pubblica con niente. Diventa già più difficile nella musica, perché nella musica costano le sale di registrazione per far muovere queste cose. Però, insomma, io sono convinto che ci sono, ci sono queste figure, a mio parere, anche importanti. La quarta domanda, come ci si educa, anche importante, io vi faccio solo un esempio, per esempio, che voglio nascondermi dietro un dito. Guardi, a Levi, che è criticatissimo dal mondo musicale, perché nel mondo della musica, oggi, o si fa scuola di Vienna, oppure uno non riesce più a entrare in una sala di registrazione. Lui è riuscito a venirne fuori, e una delle cose che mi ha inorgoglito è quando lui mi ha mandato una paginetta in cui mi spiegava che molte cose che lui ha letto in uno di questi miei libri, l'artista armato, li ritrova e gli ha suggerito una sua opera. La quarta domanda, come ci si educa? L'educazione estetica è fondamentalmente un'educazione che nasce dalla nostra conoscenza della storia, della tradizione. Uno degli errori, secondo me, decisivi è che spesso nelle scuole si vogliono saltare dei passaggi e portare i giovani, i ragazzi, o meno giovani, a vedere le mostre d'arte contemporanee. Questo, secondo me, è sbagliato. Cioè, uno trova, non è il mio il telefono, o uno incomincia a costruire una casa, dai, dei fondamenti, se le costruisci dal tetto, crolla tutto. Quindi, se si devono proprio deportare questi bambini, si riportino nei musei. Ma, guardate, il segreto, che poi è il segreto di Puccinella, l'educazione estetica, dove si fa? In casa propria, la propria famiglia. E in particolare... E in particolare, perché non si può caricare sulle spalle degli insegnanti quello che non viene fatto in famiglia. Sono gli insegnanti... Ma è così. E ve ne dico un'altra, e ne aggiungo un'altra. In famiglia, e sapete chi deve essere in famiglia? Il padre, il padre. Solo che ormai i padri non ci sono più, sono stati tutti irrotamati. Non ci sono, purtroppo. E perché mancano anche le famiglie, poi mancano le famiglie. Qui apriamo un altro cavallo di battaglia del mio intrattenimento, sarà per un'altra volta. Ultima, il signore che mi dice, certo, sto bene se sono all'interno di un contesto medievale, rinascimentale, eccetera. E sto male se vado in periferia. E io per chiudere dico, meno male, lei è una persona sana. Allora andiamo, un attimo di pazienza, andiamo verso la chiusura. Noi approfittiamo della presenza del sindaco, avremmo fatto volentieri la stessa domanda alla sua concorrenza, che penso ci sarà e quando avremo occasione la porremo, che è la seguente. La bellezza a che punto starà per il programma amministrativo di Civitanova? Non credo che sia una domanda impertinente. La bellezza non porta voti oppure la bellezza deve essere inserita nel programma? Hermas ce l'ha con me, professore io voglio fare una domanda anch'io, non se ne vada. Hermas ce l'ha con me perché da quanto sono venuto ha detto che mi voleva porre una domanda. Invece voglio dire una cosa, innanzitutto vi saluto tutti, vedo che queste tre giornate sono state belle di avvicinamento al mese di marzo, dove a marzo faremo qualche cosa di più, faremo proprio, non so come lo chiamiamo, un piccolo festival degli approfondimenti e quant'altro. Vedo tanta gente nuova, quindi vi ringrazio di essere presenti, vuol dire che la strada presa è buona, abbiamo bisogno del pubblico, abbiamo bisogno di voi, degli amici per ragionare insieme. Chi era Pop Sofia, io lo dico subito, care amiche e cari amici, guardo la signora Hermas, cari amiche e cari amici, a Pop Sofia la domanda delle domande, è la domanda delle domande, noi come amministrazione abbiamo sempre detto che vogliamo essere l'amministrazione del fare, diciamo dopo aver sentito il professore, dopo aver visto proprio questa necessità possiamo cominciare a dire che dobbiamo essere l'amministrazione del fare, ma fare bello. Quindi lo dobbiamo effettivamente mettere nel programma perché poi forse ci siamo abituati, ci siamo abituati, perché da Civitanovese Brusangue potrei cominciare a dire, ma perché qua è tutto bello, perché se vedo con gli occhi del Civitanovese vedo tutto bello, poi se cominciamo a guardare in un altro modo effettivamente non è così, quindi dobbiamo metterlo fortemente in programma. Però io voglio fare una domanda professore, perché lei ha puntato molto su modernità, contemporaneità che non si sposa con il bello, si sposa poco, allora io dico, vabbè, forse nel latte, possiamo invece per quanto riguarda il territorio, perché altrimenti se facciamo proprio questo binomio, contemporaneità che si sposa poco col bello, ecco, quindi faccio la domanda, forse la domanda delle domande. No, non vorrei essere frainteso in questo, perché è certo che è accaduto questo, che il tema della bellezza era un tema che per l'amor di Dio portarlo nella politica subito la davano del fascista, subito, subito. No, anzi, il fatto che oggi si ripensa alla bellezza in modo, diciamo, pure molto semplice, si ripensa alla qualità del vivere, una realtà, diciamo, spaziale bella, una spazialità quindi che ci consente l'aggregazione. La politica oggi si muove negli spazi, vede il problema del traffico, il problema degli alloggi, il problema del dislocamento delle diverse realtà amministrative. Tutto questo implica un concetto di bellezza che mette all'interno della funzionalità la qualità, quindi un dato di fatto oggettivo è che del bello noi per molto tempo non ne abbiamo parlato, se se ne parlava diventava un atteggiamento molto critico e anche volgare nelle sue modi di esprimersi e oggi vedo che invece diventa decisivo, quindi anzi, io sarei felice che il tema della bellezza sia dentro un altro programma. con il cammino con l'arte, in cammino con l'arte del 2008 e soprattutto con le promesse della bellezza, tema che voglio dire ha in sé tutte le questioni che abbiamo citato questa sera del 2007, noi siamo stati insieme all'autore di questi volumi, il professor Stefano Zecchi. Grazie. 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 Grazie.